Ciao a tutti e ben ritornati da vostro Andrini 91 su quella che è la sfida della Lega Pokemon Quindi oggi si affrontano due super 4, domani altri due e dopodomani il campione E poi dopo si va nel post game, lo inizierò un pochino più tardi non subito il giorno dopo Però comunque sia, faremo tutto quello che c'è da fare Anche i leggendari più particolari che si possono prendere solo avendo determinati Pokémon in squadra Allora entriamo ed affrontiamo la Lega Pokemon 4 allenatori Le Lega Pokemon di tutte le regioni sono presidute da 4 allenatori fortissimi I super 4 Anche la Lega Pokemon di Alola ha i suoi super 4 Potrai uscire di qui solo dopo averli sconfitti tutti e 4 O se uno di loro ti sconfigge Ce la farò Ottimo, cerca di mantenere la mente lucida Se sei nervoso la tua squadra lo avvertirà Non preoccuparti, andrà tutto bene e sarà un'esperienza indimenticabile Forza Andrea Passimian, portate la squadra alla vittoria Mi aspetto delle lotte avvincenti e senza esclusione di mosse Dunque stavo pensando, dato che dovrebbe esserci forse Alixia Ma non lo so, perché ho letto che è cambiata Mi sono informato un pochino Dunque qui abbiamo sicuramente Malpi Tipo spettro Tipo volante, ok Qui dovremmo avere ancora Alixia Se non Sembra noccia quello Ma qui Qui cosa abbiamo? Entriamo Forse è il nuovo contendente della Lega Pokemon Mi siamo con lui Ah Tapsu Hai capito Ehi la Quindi abbiamo Tapsu Ok Allora, chi possiamo mettere davanti? Tapsu usa il tipo acciaio E beh, allora lasciamo Monkey Ho allenato un pochettino i Pokemon Come vedete Potrei anche mettere Ramona Iniziamo con Manche Perché siccome come sempre Il CPU caccia sempre il Pokemon più debole Tra virgolette come il lead Quindi non c'è nessun problema Qui mi ha chiesto così tante volte di diventare Super 4 Che, beh Alla fine ho dovuto accettare Non voglio l'ora di lottare contro te e Chris qui alla Lega Pokemon Quindi anche i Capitani lottano alla Lega Pokemon Beh, come allenamento sarebbe ottimo Uh È incavolato Uh, il Super Cerchio Z Beh sì, in effetti se sei un Capitano O un K1 Devi per forza avere un Super Cerchio Z Mi sembra il minimo Ok, allora abbiamo un Clefki Ah, iniziamo malissimo ragazzi Se non erro Clefki è anche tipo Folletto Oltre Cacciaio Sì, lo è Dunque il Riflesso gli ha dato una grandissima mano Allora io manderei in campo Ramona Che così almeno facciamo lancia fiamme E possiamo colpirlo duro e forte Buona Predict oltretutto da parte mia Così assorbo facilmente il colpo Cannon Flash è molto efficace contro... È molto efficace, è molto forte Non è che è molto efficace, è molto forte un attacco Oh È veloce Ma ci picchia Porca miseria Più veloce lui Non posso curarlo Non posso curare Ramona Perché se cura Ramona Lui dopo mi riparalizza contro una onda Dato che è più veloce Le punte Potrei mandare un Pokémon Acciaio a liberarle Tipo se mandassi un Metagross Un Metang Comunque sia Un Pokémon che mette i piedi a terra Tipo Acciaio Io potrei spazzarle via Ok, livello 59 Perfetto Dugtrio Ok, Dugtrio è formale Ola Quindi Mando Mankey Mando Mankey Provo a farlo con lui Dugtrio È più veloce Potrebbe fare o Fossa o Terremoto Che è facilissimo Un Cannon Flash Ovviamente Tipo Acciaio Non vado di Zuffa Vado di Breccia Perché Zuffa Se non mi diminuirebbe ancora una volta L'attacco speciale Oh mio Dio Abisso Ma Allora, vi spiego una cosa Ora che ci penso Abisso Nella prima gen Non so nelle altre Abisso E tutte quante le mosse Da un colpo Praticamente Da One Hit KO Erano buggate E quindi potevano avere effetto Solo se il Pokémon Che la usava Era più veloce Del Pokémon Che la subiva E quindi Io la mancavo Tutte le volte Abisso L'avevo insegnata forse A Charizard Credo Ma era lentissimo Ora che ci penso Anche perché non andava Il segno Quindi era lento Per forza Proviamo Contro Metacross Che potrebbe avere Cozzata Zen Mamma mia Però Mando Zacro Cozzata Zen Si annulla Curo Ramona Dalla paralisi E dovrei farcela Contro Metacross Potrebbe farmi Un Meteor Pugno Non lo so Non è che ha tante Possibilità Contro Un Pokémon Buio Di fare Chissà quali mosse Meteor Pugno Ok Ok Vediamo un po' Posso colpirlo In qualche modo Con Notte Sferta Sono più veloce Tanto no? Yeah Un bel danno Gli facciamo Così perfetto Anche se va K.O. A prossimo turno Ramona lo manda K.O. Sicuro Purtroppo Bisogna anche Saper sacrificare Qualche Pokémon Per il bene Della squadra Per il bene Della vittoria Tanto poi Con i revitalizzanti Si va facilmente Avanti Andiamo un po' Dai dai Ok Con questo Vabbè Era facile Magnezone No no Vai Si Meno male Meno male Ah Vigore Dai Ma ti pare Possibile Orca Miseria Ah Manchi È lento Pizza Pai Quanto ha Di velocità A parte Prenderebbe Un super Efficace La Fulmine Slayla Che Slayla Dovrebbe essere Abbastanza Veloce 163 Ecco Messo a caricare Perché se no Qua Si spegneva Tutto Slayla Colpito la punta Va bene Va bene Oddio Rocodenti Ma a parte anche Sgranocchio Perché Rocodenti Che può Missare Eccolo perché Eccolo perché Va bene Va bene Va bene Però Però Un bel pezzo Di danni Da fatti Eccolo Vedi Se l'avessi fatto Prima Non avrebbe Missato Porca Miseria Che palle Quando è così Davvero Una seccatura Mandiamo Manky Dai Facciamo Zuffa Devo Finirla Velocemente Questa E sono anche Più veloce Ma Perché Magneton È lento Io mi ricordo Di averne fatto Uno Abbastanza Veloce Una volta Per il Competitivo E infatti Mi sa che L'ho fatto Male Perché se Vedo Che questi Qua Sono lenti Sarà B Sharp No Continuo B Sharp È facile Pure questo Zuffa E via Oh Non Tentennare Non Tentennare Oh Grande Grazie Vai Con un colpo Solo L'allenamento Sta ripagando L'allenamento Sta ripagando Quel Cucui Mi ha dato La possibilità Di lottare Contro Un allenatore Davvero Interessante Ah è Roll Rototocchio Sembra Che la squadra Non sia In forma Basti Titolotomo Cucui Ha scelto L'allenatore Più Forti Di Alola Come Super 4 In modo Che Non Potessimo Affrontare La Lega Pokemon Ne Stessi Vuole Portare Un Vento Nuova Ad Alola Si L'ho Letta Con Un' Enfasi Sbagliata Ma Facciamo Perdere Che Meglio Allora Come Secondo E Ultimo Di Oggi Ma Farei Amalpidai Curiamo Pokemon Prima Come Lead Mando Zagro Perché Almeno Con Zagro Posso Fare Attacchi Buio E Quindi Sono Un Po Parato Nel Caso Abbia Spettro Che Fa Tipo Gengar Potrebbe Anche Essere Perché Dato Che Si Trova Gastly Qui Ad Alola Potrebbe Benissimo Avere Un Gengar Ora Quindi Da Uno Psichico Ipotetico Sono Protetto Scommetto Che Ti Aspettavo Di Trovare Augusto Quando Il Protettore D'Isola L'ha Scelto Come Kaunan Non Avuto Sile Di Accettare Invece Quando È Stato Invitato Nei Super 4 Ha Rifritato Senza Troppi Problemi Ma Ne Preoccuparti Retterà Con Altre Tante Abilità Ma Io Dissi Che Dalla Dalla Miniatura La sagoma Sembrava Augusto Però A questo Punto Abbiamo Visto Che Tapson Anzi Va Benissimo Banette Non Mi Fa Paura Banette A dire Vero Uh Perfetto Stridio Manca Ed Ottimo Anche Se Non Penso Abbiamo Attacchi Fisici Boh Pensavo Solo Speciali Però Intanto L'ha Mancato Meglio Froslass Cambio Pokémon Molto Volentire A dire Vero Preferisco Risparmiarmi Un pochino Sacro E Mandare Avanti Ramona E Con Lancia Fiamme Bambam Finisce Subito Tante Tipo Ghiaccio Spettro Quindi Ottimo E' bello Come Pokémon Froslass Evolve Da Snorant Con 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 Non mi ricordo Con cosa Forse dagli Snorant Femmina Boh Non mi ricordo Abbiamo Palosand E qua mi tocca Cambiare di nuovo Mando Liopop Perché tanto Palosand Se non sbaglio È Terra Giusto Con 3R Terra Proviamo Se mi sbaglio Amen Andiamo con Canto Effimero Preferisco Fare Non l'ho detto Però Preferisco Fare 2 a 2 De lot Perché vedo Che sono Molto Lunghe E Non volendo Le tagliare Preferisco Fare Una cosa Un pochino Più Corta Cioè Più Corta Fare Due Video Piuttosto Che Farne Uno Solo Lungo Ora Dobbiamo Rimandare Appunto Sacro Perché Del mais O del mise Come vi pare Chiamarlo È Tipo Acqua Mi sembra Oltre che Spettro No erba Spettro Forse Però il fatto è che si pesca Vabbè O erba O acqua Contro Contro Liopop Era Poco Indicato Andiamo un po' con l'attacco Dala Per essere sicuro Sì Esatto Il primo attacco Che riesce a portare a termine Malpi Poverina Ma perché l'ho graziata io Se no con Notte Sferze Andava K Drifblim Drifblim No Rimango con lui Notte Sferze Ciao Drifblim Oddio Notte Sferze È fisica E Crea Contatto Eh vabbè Dai Prenderò danni da scoppio Perfetto Wow mi è lasciato a bocca aperta Senza parole Eh ci vedo Alpi ci vedo Beh a quanto pare Il mio sogno di diventare Campionessa di alale Andati in fumo Ehm Sì È un po' di Funzione In modo un po' diverso Per 4 dal campione Ma Ci sta Ci sta Bene Guggeria che per questo video Oggi è tutto E come sempre Vi ringrazio per averlo seguito Mi dispiace che sia magari corto Però Preferisco farlo in due parti Perché le lotte sono Piuttosto lunghe E magari Quest'altre due lotte Contro Tipo vento E il tipo roccia Magari Potrebbero risultare un pochino Più lunghe E quindi il video verrebbe Molto più lungo Di quanto io lo voglio fare In teoria Quindi Vi ringrazio Vi ricordo che In descrizione c'è il link Per Twitter E Instagram E se ancora non Siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Bye bye